Ci piaceva l'idea di fare un incontro plenario e mettere in rete tutte le 40 candidature che passeranno alla parte di coprogettazione perché uno dei filastri su cui si basa Laboratori dal Basso è la presenza di un cluster, la presenza di una community. L'importante è mettere insieme tutti questi soggetti anche per creare una coprogettazione sensata perché nel momento in cui abbiamo anche un focus territoriale dobbiamo far sì che essi non si sovrappongano con le organizzazioni degli eventi, dei corsi informativi eccetera. Quindi quest'oggi è anche un insieme di laboratori che devono coordinarsi nella loro implementazione. Per cui l'insieme, il cluster, proprio il dei laboratori è una cosa fondamentale per avviare un percorso di un momento. Ne vedremo delle belle. Sicuramente, infatti.